Sono stata spinta a candidarmi come RSU, non soltanto per il forte rispetto che nutro per l'organizzazione sindacale che mi rappresenta, ma anche per la voglia di mettermi in gioco nella tutela dei diritti dei lavoratori del luogo in cui lavoro, che è il Comando Scuole dell'Aeronautica Militare a Bari. Nell'arco del triennio, come RSU, ho raggiunto importanti obiettivi, soprattutto nel periodo del Covid, della pandemia. Infatti, l'RSU si è distinta per le tempestive richieste di interventi volti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare, per quanto riguarda, ad esempio, l'approvvigionamento dei DP, delle mascherine, delle soluzioni igienizzanti per la sanificazione delle mense di servizio, ma anche per un'attenzione al rispetto delle regole per l'attuazione dello smart working e del lavoro agile, volto sempre a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Spero di poter continuare a svolgere il mio incarico, sempre volto alla difesa e alla tutela dei lavoratori e alla valorizzazione del personale civile che rappresento, anche con l'aiuto e il sostegno dei colleghi.